salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono jnm e oggi siamo tornati in un video di clash royale ancora clash royale non l'ho aperto perché ho visto qua che è stata rilasciata la nuova carta il mega sgherro se vi ricordate il video di ieri chi non l'ha visto se lo vado a vedere e abbiamo visto che sarebbero state rilasciate contro nuove carte di cui due lezioni leggendari eccola qua nuova carta disponibile mega sgherro offerta speciale disponibile vediamo un po il baule epico questo è molto interessante e metterò la parte dei soldi quindi la prossima volta che ci sarà perché adesso non lo potrò prendere e mi compro il baule epico nel chest opening praticamente lo farò comunque le solite carte donatore faccio qualche donazione eccolo qua il mega sgherro allora io sono un po tentato ad aprire questi due bauli d'oro però perché ci potrebbe essere un mega sgherro ma potrebbe essere anche qua se abbiamo fortuna ma non ci sarà di sicuro difatti però c'è l'epica attenzione scusate l'interruzione e colpo di tosse sono un po raffreddato comunque in questo video volevo portarvi la sfida classica poi metterlo da parte le gemme per fare la sfida grandiosa comunque cosa consiste già l'ho fatta praticamente ora c'è questa quota di iscrizione 10 gemme e il primo premio sono 2000 monete d'oro e 100 carte di cui una epica e 10 raga quindi molto buono iscriviamoci ed eccoci qua questa è la il menu diciamo della sfida classica allora se non vinci nessuna partita e ti da comunque tre 130 d'oro e due carte se perdi tre partite sei fuori se arrivi a 12 partite vinte e ricevi il premio ogni vittoria si aggiunge 50 cioè per la prossima vittoria si aggiungeranno 50 monete d'oro e una carta andiamo subito in battaglia spero di avere il deck giusto che se ho quello sbagliato mincavolo vabbè quello giusto perché ieri ho fatto un miglioramento anche all'altro deck faccio così e vai il dovatore ancora una botta e la puntata perfetto forse in questo video e vi porterò una sua partita non è che mi ha fatto tanti danni adesso se la sfida invece no non c'è l'altro perfetto perfetto va bene così allora qualche botta malattia dopo lui ma noi ne troviamo anche di più un altro ma è ovvio che mi ha dato perfetto i miei goblin si sono concentrati anche sulla torre quindi mi ha fatto degli anni adesso aspetto che mi si ricarichi lì sì perché fare l'attacco ci vuole colpa quello che devo fare quindi però mi difenderò ci vogliono certe parte quindi bella mossa perché giustamente il domatore tanca gli sgherri comunque credo che anzi spero che di questa mossa gli cade la terra mi è caduta perfetto perfetto questo punto lui butterà il domatore o il cucciolo il drago intanto io faccio così ora la difesa l'importante l'importante sarà la difesa e una delle migliori difese è sempre l'attacco ma non sembra perché se io attacco lui si difende mi butta carte ora io butterei lui cioè loro faccio di questo faccio così speriamo che 20 secondi devo riuscire a resistere speriamo che non abbia le palla di fuoco del razzo né altre cose simili e che così almeno perfetto ha spiegato le sue frecce allora io mi metto così faccio così faccio così oh bella partita bellissima e ah comunque bellissima anche la grafica delle colore molto bella e quindi in breve era questa la e la sfida classica vediamo la registrazione e vabbè ci sembra quella cosa di sette minuti vediamo se riesco ad arrivare magari a otto però farò dettagli eh ecco questa sarà la seconda e ultima partita del video ok scusate interruzione comunque eccoci allora io farei così e così in modo tale da fermarli ecco e credo che dopo gli scheletri ci sia il donatore quindi faccio così faccio così e così perfetto spero che non abbia la scarica o la palla di fuoco intanto ma avete visto proprio il goblin lanciare mi ha taggato il donatore e ho permesso di vivere quel pochino più a lungo che ci ha promesso di fargli dei danni molto interessanti grandissimi goblin lanciari guardate quei goblin come picciano questa è vinta e va bene il ciò colpettino ora io mi incavolo se la difende la torre perchè è inutile tanto mi è caduta allora un ruolo per difendere per difendersi al mini pecca sono i goblin normali perchè riescono a toglierlo comunque anche se ha la vita piena questo è da fermare assuntissimamente però qualche botta me la da una e mi devo difendere sono senza elixir perfetto ora lui mi potrebbe buttare l'oro e la sfera infuocata no ho sbagliato perchè lui poi se mi butta se mi butta la la l'orda di sgherri sono fregato difatti spero magari qualche danno vai vai barbaro ok lo ci sono di una la scalica perfetto il mio dec non易zo si no profetto argomento quella torre devo abbattere se no non sono contento bastardo perfetto 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 vediamo anche l'ultima di butto carte a caso bella partita perfetto ovviamente la solita grafica bellissima quindi due vittorie tanti soldi e 5 carte prossima vittoria più 70 e più 30 ogni volta se giungono 10 d'oro è una carta quindi vi dico che per questo video è tutto vi ringrazio per la visione mi invito a lasciare mi piace se questo video vi è piaciuto e di lasciare un commento qua sotto per suggerirmi qualcosa da fare nella serie clash royale o su qualche altra serie vi informo che che arriveranno anche video su altri giochi a breve e forse anche oggi quindi dal vostro gen gaming è tutto ciao ciao